Sì, ovviamente è un dato di fatto, sono stati nettamente superiori, c'è un motivo se sono primi, noi sicuramente li abbiamo agevolati in alcuni tratti della partita non avendo l'atteggiamento giusto e quindi questo è sicuramente una colpa nostra e poi c'è anche da dare atto che hanno fatto una grande partita. Proviamo a fare un bilancio, finito il girone d'andata, che girone d'andata è stato? Ma è stato un girone d'andata discreto, sicuramente non è stato il massimo che potevamo fare, abbiamo avuto anche bassi dovuti a tante dinamiche, adesso c'è solo da rimboccarsi le maniche per fare un girone di ritorno sicuramente diverso sotto l'aspetto anche dei risultati e perché le prestazioni bene o male ci sono state quasi sempre, quindi dovremo svoltare anche sotto l'aspetto dei risultati mettendoci più cattiveria. Cominciamo subito il girone di ritorno con una traspetta, si va a Monopoli, l'occasione magari per trovare assolutamente il risultato? Sì ma senza vedere chi c'è, se c'è Monopoli o in trasferto in casa, è una partita che sicuramente dovremo affrontare col piglio giusto per ribaltare l'ultimo risultato e portare a casa una vittoria a tutti i costi. Grazie Nico. Grazie.